Io gliel'avevo raccontato... Detesto quando questi inutili con... Avrò la tua testa... Vai! Bisogna... Vai! Guarda, i bruti che ci... Si figgiano e si maltrano... E devorizzati in un salo! Pazzo! Io... Iemollia! Tu tribunali in persona presiderà l'evento! Dissende devono capitare… Udite, udite! Ricordiamo i macchini di... ...le l'avore di l'inito! Mordi e preti, cortigioni Avete veduto da casa? Non plus ultra dell'arte dei fabbri Se non potete permettervi il lusso, state alla larga 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 Non c'è nulla per te qui, bifolco. Non dovresti stare quassù. Lanzate, consigliere! Si terrà un pallo in maschera presso il palazzo d'Andolo. Il signor Franco D'Andolo in persona presiderà l'Evano. Perché cammina come tutti quanti. Udite, udite! Ricordiamo ai cittadini che i lavori di ristorazione dei ponti della città sono ancora in corso. Siate pazienti e non importunate gli operai con continui da mettere sulla curata dei lavori. Rimpiangerai di essere nato! Sono solo nel passaggio... Si riuscire! Si riuscire! Si riuscire! Siete gli estremati! E' un'esercizio da quei bambialdi! Maschere di ottima fattura! 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 Maschere di ottima! Maschere di ottima fattura! Maschere di ottima! Buongiorno! Maschere di ottima fattura! Buongiorno! Maschere di ottima fattura! Buongiorno! 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 Il crimine di questo po' a portare, che a chiunque lo farà arrestare, o ne porterà la testa alle guardie, verrà... Il crimine di questo po' a portare. Ho distillato un elisir di piongo e melograno, ideale per il fegato! No! State indietro! Basta! 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 Sarà un po' bella a morire. Sì! Sì, così! Mi chiedo con chi siete venuti allo scopo.